Musica Potenziati collegamenti nell'Adriatico della flotta Grimaldi, operative con cadenza trisettimanale sulla rotta Ravenna Brindisi-Catania, Le Rorò, Ibride, Eco-Catania e Eco-Livorno. Guido Grimaldi, autostrada del mare, strumento virtuoso per sostenibilità e risparmio energetico. Accordo sulla deforestazione a Glasgow, alla COP26, oltre 100 paesi per lo stop entro il 2030, resistenze India e Cina sulle emissioni, Greta Thunberg contro tutti, ancora bla bla. Verso la proroga delle norme anti-Covid, stato d'emergenza fino a marzo e obbligo di Green Pass fino a giugno e giovedì in CDM il decreto concorrenza. Manifatturiero italiano da record, l'indice PMI a ottobre sale di circa un punto e mezzo, Italia al top in un'Europa in controtendenza. Allerta meteo arancione su mezza Italia, da domani previsti nubi fragi con un vero e proprio ciclone che si sta formando dal Mar Ligure alle coste tirreniche. Buonasera, allerta meteo arancione domani su mezza Italia, da Venezia ai litorali toscani fino a Napoli. La nuova ondata di maltempo si prolungherà fino al weekend causando nubi fragi, nevicate lungo i confini alpini, ma soprattutto con l'arrivo di un vortice di aria fredda dal nord Europa, un vero e proprio ciclone che imperverserà dal Mar Ligure poi lungo le coste tirreniche. La nuova perturbazione provocherà forti venti e rischio di alluvioni in Campania con precipitazioni estese e persistenti anche nelle regioni centro-settentrionali che potrebbero causare rallentamenti e problemi al traffico veicolare. E rimanendo comunque in tema di trasporti, parliamo ora di autostrade del mare che continuano il loro sviluppo verso un potenziamento dell'intermodalità sostenibile. Il gruppo Grimaldi punta forte sull'Adriatico utilizzando due delle navi di ultima generazione che andranno ad incidere ulteriormente sul decongestionamento dell'asse stradale orientale della penisola. Vediamo i dettagli nel servizio di Roberto D'Antonio che ieri era a Brindisi alla presentazione del nuovo collegamento marittimo varato dalla compagnia armatoriale partenopea. Le nuovissime errorò ibride del gruppo Grimaldi, Ecco Catania ed Ecco Livorno, da ieri operano nell'Adriatico. Le due unità di ultima generazione sono in esercizio sulla tratta Ravenna-Brindisi-Catania e toccheranno questi porti con cadenza trisettimanale. Ieri a Brindisi è approdata per la prima volta l'Eco Catania e la linea è stata tenuta a battesimo dall'armatore Guido Grimaldi, presidente di ALIS, e dal presidente dell'autorità portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi. Le Eco andranno a sostituire le precedenti unità eurocargo, aumentando la capacità di trasporto dei trailer sulla rotta dell'Adriatico, da poco più di 300 unità a 500. Evidenti i benefici al traffico veicolare sia in termini di emissioni di CO2 che di sicurezza, ma anche, specialmente in questa fase, in tema di risparmio energetico. Io direi che con l'aumento del prezzo del gasolio, come anche l'aumento del prezzo dell'LNG, in verità l'unico strumento che oggi abbiamo per cercare di ridurre il più possibile le emissioni di CO2 è e sono le autostrade del mare. È uno strumento virtuoso, è il motivo per il quale noi abbiamo insistito nel cercare di non far ridurre della metà quei virtuosi contributi come mare bonus e ferro bonus, ma invece cercare di raddoppiarli, cercando di andare in quella direzione che sono proprio il decongestionamento e soprattutto il rispetto degli accordi dei Parigi, ma soprattutto le grandi imposizioni corrette, giuste che l'Europa, voglio dire, ci impone e che vorrei ricordare questa nave oggi ha già raggiunto. Nell'effetto, questa nave rispetta già quelle che sono le richieste di ridurre del 50% entro il 2050, questa nave in una generazione avanti già ci è riuscita. Il ruolo strategico del porto di Brindisi per il sistema trasporti sull'asse est-ovest del Mediterraneo si allarga grazie all'erroro del gruppo Grimaldi anche alla rotta nord-sud dell'Adriatico, facendo di Brindisi uno snodo chiave per lo sviluppo del mezzogiorno, ma non solo. Uno sviluppo che richiederà investimenti per l'allargamento dell'area portuale, in particolar modo per quanto riguarda la possibilità di accogliere navi che necessitano di alti fondali per l'attracco. Noi abbiamo un vasto piano infrastrutturale, questo piano evidentemente, ne abbiamo parlato tante volte con Guido, ha fatto breccia nella compagnia e quindi la compagnia ci ha aperto credito. Qui c'è un'unica banchina che può accogliere questa nave. Fra poco, quando realizzeremo il pontile a briccole, avremo ben due ormeggi in più, quindi avremo tre banchine che sono in grado di accogliere queste navi. Progresso, eccetera, non sono parole vuote, ma presuppongono buone volontà e investimenti concreti. Infine, un elemento di importanza assolutamente non secondaria è quello dell'impatto ambientale per le città portuali italiane che hanno i propri scali inseriti in un tessuto urbano densamente abitato. La capacità delle unità eco del gruppo Grimaldi di operare grazie a batterie che consentono di non emettere sostanze inquinanti diventa un valore aggiunto inestimabile. Questa, come altre città, come per esempio Napoli, come Genova, come Livorno, come Venezia, insomma tante altre città di mare, questa in verità è un porto nella città e probabilmente la città tutto sommato abbraccia il porto, quindi è fondamentale per una città del genere avere una nave che oggi non emette, una nave che appunto, vuol dire, rappresenta il futuro, ma oggi in effetti è qui e quindi che dà anche una dimostrazione verso una sostenibilità che è un dovere sociale, ambientale ed economico per tutti ed è un qualcosa di cui nessuno si può esimere. Quindi io penso che oggi il messaggio che viene dato in merito alla sostenibilità è un messaggio veramente importante. La popolazione deve compincersi che questo è possibile solamente, come ho detto, finché il porto si adegui alla nave, è quello che diciamo sempre, non sono le navi che si adeguano ai porti, ma i porti che si adeguano alle navi. Questo porto lo stiamo adeguando, la nave è arrivata. L'obbligo di esibire il Green Pass potrebbe restare in vigore fino alla prossima estate. Il Governo starebbe infatti valutando una nuova proroga delle norme anti-Covid per fronteggiare al meglio la nuova risalita dei contagi e per garantire l'apertura delle attività pubbliche e private. Non solo al vaglio dell'esecutivo, anche l'ipotesi di estendere lo stato d'emergenza fino a marzo al fine di gestire al meglio la campagna vaccinale. Proprio sul piano di immunizzazione, mentre il sottosegretario alla salute Andrea Costa apre all'estensione della terza dose di vaccino anche ai 50 anni, già entro la fine dell'anno, è atteso a breve il parere dell'AIFA in merito al richiamo per le persone alle quali è stato inoculato il siero di Johnson & Johnson, la cui efficacia sembra attenuarsi dopo pochi mesi. A dover ricevere a breve un'ulteriore dose di vaccino anti-Covid anche gli insegnanti, soprattutto a fronte del nuovo aumento dei contagi tra i più giovani. I professori sono stati tra le prime categorie a ricevere il vaccino e per molti di loro la copertura, essendo passati sei mesi, sta scadendo. A contatto giornaliero con gli studenti, il rischio per loro di contrarre il virus è alto, soprattutto se si considera che stanno aumentando i casi di positività tra i ragazzini in età scolare. Nelle scorse settimane il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, ha fatto un appello per la terza dose al personale docente, anche per salvare l'anno in presenza dopo due anni di dad e ora la campagna accelera, annunciando che ha intenzione di somministrare il nuovo richiamo ai prof dopo sei mesi dall'ultimo e a partire già da novembre. Una fuga in avanti per proteggere chi ha aderito per primo alla vaccinazione. Anche il Lazio è pronto a somministrare la terza dose ai docenti e al personale della scuola. Le categorie che stanno ricevendo prioritariamente la terza dose sono gli ospiti dell'RSA, gli anziani, i soggetti fragili e gli over 60 e sono almeno 200.000 le persone occupate nel mondo della scuola con più di 60 anni, a contatto con ragazzini tra 5 e gli 11 anni non vaccinati. Chiediamo agli insegnanti che ancora non si sono vaccinati, che sono pochissimi, di vaccinarsi e a tutti i docenti di procedere con la terza dose, ha dichiarato Mario Rusconi, presidente dei presidi di Roma. Andiamo ora a Glasgow, dove ombre e certezze stanno caratterizzando gli incontri della COP26. Dopo la prima giornata di lavori, segnata negativamente dall'annuncio dell'India che non sembra avere intenzione di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni prima del 2070 e dopo che la Cina ha reso noto di aver aumentato ad ottobre la produzione media giornaliera di carbone, oggi dal World Leaders Summit di Glasgow è giunta una buona notizia. Sono oltre 100 i paesi del mondo, tra cui anche Cina e Brasile, che si sono impegnati per fermare la deforestazione entro il 2030. Un accordo che prevede un investimento di circa 19,2 miliardi di dollari tra fondi pubblici e privati e che segue l'obiettivo, fissato nel corso del G20 di Roma, di piantare collettivamente mille miliardi di alberi nei prossimi vent'anni per combattere il degrado del suolo e creare nuove vasche di assorbimento del carbonio. Inoltre è salito oltre 100 anche il numero dei paesi che alla COP26 hanno aderito all'impegno per la riduzione del 30% delle emissioni di metano entro il 2030. Accordi ed iniziative che tuttavia non risultano sufficienti agli occhi di Greta Thunberg, la quale ha liquidato i recenti discorsi dei leader mondiali come un bla 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 i veri leader siamo noi, ha aggiunto l'attivista svedese siamo noi il cambiamento. Alla COP26 di Glasgow si devono decidere tante cose ma quella che conta davvero è una sola. Quanto ciascun Stato aumenterà il suo taglio delle emissioni di gas serra. Se la somma dei tagli nazionali sarà consistente si potrà mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 2 gradi dai livelli preindustriali l'obiettivo minimo dell'Accordo di Parigi o anche al di sotto di 1,5 gradi l'obiettivo massimo. Se il taglio sarà modesto il riscaldamento supererà quel limite e dovremmo affrontare desertificazioni ed eventi meteo estremi col corollario di guerre, fame e migrazioni. Quando hanno firmato l'Accordo di Parigi nel 2015 gli stati dell'ONU hanno preso degli impegni per ridurre le emissioni. Si chiamano NCD National Determinated Contributions. Ogni anno questi impegni devono essere rivisti. La revisione doveva avvenire l'anno scorso ma la COP26 di Glasgow è stata rimandata di un anno per la pandemia. Oggi siamo arrivati al dunque. Nella capitale scozzese i firmatari degli Accordi di Parigi dovranno dire quanto vogliono tagliare le loro emissioni climalteranti. Rimanendo nell'ambito delle notizie riguardanti i temi della sostenibilità ambientale stasera per il ciclo dei talk di Alice Channel trasmetteremo alle 21 una puntata proprio su questi argomenti analizzando in particolare i riflessi che la transizione ambientale sta avendo per il mondo dell'impresa. Ospiti di Antonio Enrico che modererà il programma Valentina Tundo, Senior Manager Supply Chain di Italy and Greece Francesco Petracchini, Direttore dell'Institute of Atmospheric Pollution Research del CNR e Massimo Marciani, Presidente del Frey Leader Council. Sentiamo proprio dalle parole di quest'ultimo un breve stralcio del talk dove vengono illustrate le priorità del programma Lean & Green indirizzato a guidare le aziende della logistica nel processo di transizione ambientale. Il tema della decarbonizzazione è un tema che è ampiamente accettato da tutti gli operatori anche dagli operatori di logistica e questo vi è noto anche a voi all'interno di Alice. Il tema è come e con che velocità bisogna arrivare a raggiungere degli obiettivi che sono quelli che abbiamo ascoltato in precedenza. E devo dire che da questo punto di vista dei programmi di accompagnamento alle aziende come nel caso di Lean & Green aiutano le aziende a costruire una propria roadmap, aiutano le aziende a individuare un percorso, a scadenzare dei tempi, abituano le aziende a misurare gli incrementi, a misurare i miglioramenti perché veramente in questo percorso, che è un percorso collettivo, è un percorso che non coinvolge soltanto gli operatori della logistica o quelli della mobilità, non coinvolge un unico settore industriale, non coinvolge un unico paese, ma è un discorso globale, noi dobbiamo essere in grado non solo di raggiungere gli obiettivi ma anche di misurare, quello che diceva prima il direttore Petrachini, quelle che sono anche i costi di quello che noi andiamo a fare, quindi un investimento di un euro che cosa genere in termini di ritorno in abbattimento di CO2. Partirà dal Senato l'iter di approvazione della manovra di bilancio 2022. Nelle commissioni competenti si stanno studiando le modifiche migliorative da proporre al testo del Governo, a cominciare dal delicato tema delle pensioni. La maxi manovra espansiva si appresta ad andare in Parlamento in questa settimana e i partiti preparano già il terreno per lo scontro che si aprirà sui capitoli più delicati, a cominciare da quello delle pensioni. Anche il Partito Democratico ora chiede di cambiare la legge Fornero puntando ad una maggiore flessibilità, purché sostenibile e avendo come priorità i giovani che rischiano di non avere mai una pensione. La Lega, che fin dal primo giorno ha trattato con il Governo sulle pensioni, chiede di più, soprattutto per le donne, perché qualsiasi forma di previdenza a favore delle donne non è ancora sufficiente, ha detto il sottosegretario Tiziana Nisini. Il nodo ancora aperto è anche quello del reddito di cittadinanza, criticato dal centrodestra, con il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che lo definisce un grande fallimento grillino, un grande inganno. In settimana è previsto inoltre il DDL concorrenza. Il Premier Draghi lo aveva annunciato per giovedì prossimo, sottolineando come vi fossero perplessità su diversi punti, inclusa la questione delle concessioni balneari, sulle quali si attende ancora la decisione del Consiglio di Stato, che si è riunito il 20 ottobre. Sul capitolo pensioni il Governo ha stanziato 600 milioni di euro, troppo pochi, per una riforma complessiva del sistema previdenziale e la mediazione trovata dopo lo scontro con i sindacati, cioè quota 102, è presto diventata una mossa insufficiente. Ottobre record per il manifatturiero italiano. La forte crescita dei nuovi ordini e della produzione spinge l'indice PMI da 59,7 di settembre a 61,1 punti, segnando il sedicesimo mese consecutivo di espansione del settore. I dati italiani risultano in controtendenza con quelli europei. In base ai report di East Market, infatti, l'indice PMI manifatturiero della zona euro è sceso ad ottobre di tre decimali, attestandosi a 58,3 ai minimi da otto mesi, principalmente a causa dei rallentamenti legati alla fornitura e carenza di materiale. Ma veniamo ora alle politiche per l'istruzione. Tra oggi e domani sarà approvato dal Governo il nuovo protocollo per la scuola. Ad annunciarlo oggi il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, l'obiettivo, ha aggiunto, è mantenere la scuola in presenza, limitando al minimo la DAD. Niente DAD se c'è un solo positivo, se sono due, quarantena selettiva, a seconda se si sia vaccinati o meno, e si resta tutti a casa se i casi sono almeno tre. Le nuove indicazioni per la gestione dei contagi in classe, redatte dall'Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e dell'Istruzione, con il contributo delle regioni, sono in discussione da un mese e dovrebbero avere il disco verde nelle prossime ore. Per salvaguardare il più possibile l'anno scolastico in presenza, in caso di contagi il ricorso alla didattica a distanza verrà calibrato e si darà peso a test e tracciamento. Andranno effettuati il prima possibile e dopo cinque giorni, oltre che al termine dell'eventuale quarantena. Il protocollo per le quarantene, per il presidente dell'Associazione Nazionale ai Presidi, Antonello Giannelli, è un passo avanti, ma avverte le scuole non dovranno fare tutto da sole. Il protocollo sarà diverso a seconda della fascia d'età degli alunni, tenuto conto che sotto i 12 anni non esiste al momento vaccino e che per i più piccoli, fino a 6 anni, non è prevista nemmeno la mascherina in classe. Anche per i docenti ci sarà un discrimine tra vaccinati e non e si dovrà tenere conto delle misure di prevenzione adottate. Un caso ancora diverso è quello dei servizi dell'infanzia per i più piccoli, 0-6 anni, è prevista una quarantena di 10 giorni, al termine della quale dovranno effettuare un test. Andiamo ora all'estero. Nuovo attentato in Afghanistan. È di almeno 23 morti e 50 feriti il bilancio del duplice attacco kamikaze avvenuto questa mattina presso l'ospedale militare di Kabul. Già bersaglio 4 anni fa di un attentato dell'ISIS. Secondo fonti locali, alle esplosioni sarebbe seguita una sparatoria. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco ma si sospetta il convolgimento del ramo afgano dell'IS noto per la sua avversione ai talebani. Intanto è apparso per la prima volta pubblicamente solo nei giorni scorsi a Kandahar il leader supremo dei talebani a Kunzada. Il mullah a Kunzada ha fatto la sua prima apparizione pubblica nelle scorse ore a Kandahar nel corso di una cerimonia che si è tenuta in una madrassa. Ma il suo volto resta quello che si conosce dalla foto del 2016 turbante bianco, barba scura con qualche filo grigio, espressione enigmatica. A Kandahar non erano consentiti foto e video, solo una registrazione audio di 10 minuti e un messaggio del governo di Kabul nel quale si afferma che a Kunzada ha parlato per 10 minuti con i valorosi soldati e discepoli dopo essere arrivato con un convoglio di due auto protetto da misure di massima sicurezza. Smentite dunque tutte le speculazioni che lo davano per morto alimentate oltre che dalla sua invisibilità anche dal precedente del fondatore e primo leader supremo dei talebani il mullah Omar la cui morte non era stata confermata per anni. Nominato leader supremo dopo la morte del suo predecessore a Kunzada ha fatto del low profile la sua cifra sin dal primo emirato islamico è stato uno dei principali autori della fatwa dei talebani e da capo del sistema di giustizia ha avuto un ruolo chiave nell'abolizione dei diritti delle donne e nell'imposizione delle punizioni corporali. Originario di una famiglia ultraconservatrice Pashtun della città di età imprecisata ma molto probabilmente attorno ai 60 a Kunzada ha grandi doti di mediazione e ha ottenuto l'appoggio da parte del capo di Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri che lo ha definito l'emiro dei fedeli. Ora alcune notizie tecniche sono stati approvati dal comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale del Martirreno meridionale Ionio il piano operativo triennale 2022-2024 il bilancio di previsione 2022 e il triennale 2022-2024 Per un totale di 366 milioni di euro sono previsti l'acquisto del bacino di carenaggio e i collegati lavori di adeguamento della banchina per lo scalo di Gioia Tauro In programma anche interventi destinati al progetto Gioia Sicura per la creazione di una piattaforma integrata di digitalizzazione e snellimento burocratico delle procedure amministrative in tutte le aree logistiche portuali e un complessivo sistema di videosorveglianza da destinare ai 5 porti Il porto di Valencia sceglie di puntare sul ferro per il trasporto merci Sul piatto l'autorità metterà 240 milioni di euro per investimenti pianificati nei prossimi anni La ferrovia aiuta l'ambiente ha dichiarato in merito il presidente dello scalo Aurelio Martinez decongestiona le strade ed è efficiente per il trasporto di merci su distanze specifiche a partire da 300 km Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News e vi ringraziamo per l'attenzione